Ciao, ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao, ciao! Allora, allora, qual è la questione? Innanzitutto, innanzitutto è inutile che parli di teletrasporto, è inutile che svighi, perché svicoli dal problema? Qui c'è un problema e tu io ti teletrasporto io, caro ipopotamo fallito, caro ipopotamo fallito! Intanto chiariamo una questione, un altro che snobba è il pelataio, l'ho già detto ieri, ma ha litigato con birretta, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, forse, forse un pandino ci ha visto giusto, un pandino, poi io me la godo, io sono qui bello stravaccato, entrano visualizzazioni, entrano come valangre visualizzazioni, siete stati sgamati, buttate quella maschera del merda che avete in faccia, traditori della verità, traditori della giustizia, poi, tornando all'ippopotamo, ciao carissimo, cosa fai adesso? Ah, il mare scalco, io conosco il mare scalco, io conosco, io conosco, io conosco che io ho già fatto quello che dovevo fare, ho già segnalato tutte le autorità competenti, perché tu mi hai calugnato e la pagherai anche se sei un disoccupato del merda, capito? perché te hai una maglia gialla, una maglia blu, non fai una sega, e pesi, sei un peso massimo, capito? Sputi sul web, sputi sulla piattaforma, hai creato dei danni al mio canale, però adesso fai bene al trismo, cosa fai? Mi provochi, ma guarda che le visualizzazioni le sto facendo io, alla faccia tua, fallito! Fallito! Alla faccia tua!